Sono contento per la mia prestazione, un po' meno per il risultato perché secondo me questa terapia la evitava un po' così in più, sotto il profilo del gioco e sotto il profilo del temperamento. Sapevamo che l'Avellino era una squadra tosta e l'abbiamo affrontato nel migliore dei modi. Diciamo che sapevamo di affrontare una squadra rognosa come l'Avellino. Io credo che i primi 25 minuti abbiamo affrontato un po' la partita con qualche lancio lungo in più, un po' come loro. Ora cerchiamo di giocare sulle seconde palle, ma con una squadra così rognosa è difficile veramente giocare sulle palle lunghe. Io penso che appena abbiamo messo la palla a terra siamo riusciti col gioco a metterla in difficoltà e poi per tutta la partita abbiamo proseguito con questa linea. Quindi secondo me la svolta è stata giocare con la palla a terra. L'unico romarico secondo me è aver preso gol subito dopo il mio gol. Ma io ripeto, questa terna sta crescendo a vista d'occhio, sta migliorando, abbiamo dei margini di miglioramento notevoli.